Dottore, il mercato dell'auto nei primi otto mesi del 2022 ha avuto una grave perdita. Soltanto ad agosto c'è stato un incremento a livello nazionale di quasi il 10%, ma questo non va a compensare quello che si è perso. Attualmente la situazione in Puglia qual è? Beh, attualmente la situazione in Puglia rispecchia in un certo qual modo un po' tutto quello che è il contesto del mercato nazionale. Tra l'altro appunto questo dato positivo di agosto non ci lascia assolutamente tranquilli perché comunque agosto è un mese nel quale non siamo riferimento ben preciso e tra l'altro veniamo appunto da circa 13 mesi appunto di saldo negativo. E tra l'altro, proprio leggendo tra le righe i numeri, un altro dato preoccupante che per la prima volta vediamo calare il dato dei privati. C'è carenza di richiesta, c'è anche però una grave carenza di produzione. Il mercato automobilistico produce il 50% in meno a causa del costo della manodopera, del costo dei materiali e guardando in un immediato futuro anche del costo di quelle che saranno le utenze, possiamo dire che a livello industriale incidono moltissimo. Ecco, questo inciderà ancora maggiormente su questa crisi e come uscirne? La cosa peggiore è l'incertezza. L'incertezza che appunto è quell'elemento che in un certo qual modo non lascia assolutamente tranquilli noi imprenditori. L'incertezza appunto non soltanto in quello che sarà lo sviluppo, la nascita e la crescita delle nostre aziende, ma soprattutto anche incertezza nel cliente. Tanti settori in crisi, quindi è quello del mercato dell'automobile, è un settore che sta risentendo molto della crisi energetica dopo quella del Covid. Tante le problematiche da affrontare con la voglia di ripartire. Laddove un utente volesse acquistare un'auto, quali sono ad oggi i tempi di attesa? Ma i tempi di attesa vanno dai 4 ai 12 mesi. Alle volte assistiamo anche a prodotti che non è possibile neanche ordinare, perché appunto non si ha una previsione di consegna. Quindi il paradosso è che abbiamo magari dei clienti in salone e ai quali appunto non possiamo dare notizie certe per consegnare una vettura.